Le 9 e 27 minuti, eccoci qui, ben ritrovati. La vedo collegata a distanza. Ecco, abbiamo con noi la professoressa Giovanna Celia, presidente della Società Italiana di Psicoterapia Integrata e Strategica. Buongiorno professoressa. Buongiorno, buongiorno, ben trovati. Eccoci qui professoressa. Lei è anche, lo dicevamo prima, docente di psicologia dinamica, responsabile del servizio di counseling psicologico dell'Università di Foggia. E' proprio l'Università di Foggia, insieme all'Università di Roma La Sapienza, all'Università di Salerno, ha pubblicato di recente un'importante ricerca che riguarda il covid e il cospirazionismo, che in realtà, detto così, suscita molta curiosità. Qual è stato, diciamo, l'obiettivo della ricerca? Quali sono stati i mezzi utilizzati e a che risultati si è arrivati? Sì, in realtà è una ricerca che ci ha coinvolto e anche molto, diciamo, interessato perché le mosse le abbiamo prese dalla difficoltà che viveva, insomma, il paese in particolare, ma è stata una tendenza abbastanza globale, di un molto importante gruppo di persone che durante la pandemia ha praticamente rifiutato l'idea, diciamo, che quello che stesse accadendo fosse reale. E quindi ha cominciato tendenzialmente a diffondere idee che quello che stava succedendo era una costruzione quasi cinematografica, che il covid non esistesse, per cui era poco, diciamo così, collaborativo rispetto a adottare tutte le, diciamo, misure di sicurezza che il governo, il Ministero della Salute, ci ha sempre indicato, quindi la distanza di sicurezza, l'isolamento, l'adozione delle mascherine, insomma, vi ricorderete tutte le diverse manifestazioni, anche piuttosto aggressive, anche a volte piuttosto violente, che venivano fatte per, in teoria, sostenere la libertà della salute, e quindi, diciamo, la possibilità di ribellarsi a questa sorta di, vissuta come una sorta di dominio, insomma, di prigionia del governo, che ci suggeriva e ci invitava naturalmente a tutta una serie di precauzioni. Con i colleghi, con la professoressa Anna Maria Giannini, col professore Mauro Gozzolino, insomma, referenti delle università Sapienza e Salerno, insieme a me, ci siamo chiesti, ok, probabilmente dobbiamo capire che cos'è che muove queste persone dal rifiutare così massicciamente e anche per certi versi anche così violentamente queste indicazioni, perché fino a quando non riusciremo in qualche modo a capire cosa queste persone rifiutano, non sapremo nemmeno come comunicare con loro, come provare, diciamo, anche ad adottare delle misure, come dire, di intervento e anche di comunicazione più efficace per convincere le persone più resistenti ad accettare questa fase della vita, che è stata molto difficile e anche molto lunga, perché comunque è durata due anni, non è ancora del tutto finita, eccetera, eccetera, come possiamo fare poi per aiutarli. Quindi abbiamo tentato di capire che cosa muovesse queste persone dal rifiutare la situazione attuale, insomma, quella che era la situazione attuale. Vi ricorderete la famosa tesi che le bare sul famoso camion a Bergamo erano finte, erano di cartone, insomma, erano delle affermazioni abbastanza forti, no? Soprattutto per noi clinici era, insomma, una sensazione di trovarci in una condizione, diciamo, abbastanza di rifiuto della realtà. Per cui abbiamo costruito, insomma, insieme con i colleghi un questionario su una piattaforma Qualtrics, un questionario che mettesse insieme parecchie variabili, insomma, in modo da cercare, insomma, di inquadrare il fenomeno nella sua complessità, perché sicuramente lo ritenevamo complesso come fenomeno. Quindi abbiamo tentato innanzitutto di utilizzare una scala della cospirazione, quindi da Covid-19, quindi come mai ci fosse questa idea che il Covid non fosse reale, ma fosse stato costruito da qualcuno per ingannare il mondo, per lucrare, insomma, sul mondo quando sappiamo che con il Covid l'economia si è fermata, insomma, comunque la gran parte dell'economia, quindi erano anche abbastanza poco realistiche queste tesi. Abbiamo utilizzato un'altra scala per i meccanismi di difesa, perché, insomma, da psicologa dinamica, chiaramente volevo capire quali fossero i meccanismi di difesa che queste persone stessero utilizzando, le strategie di coping che queste persone eventualmente, o comunque le persone adottassero, il loro rapporto con le emozioni, abbiamo valutato anche le emozioni positive e negative, insomma, del generale, delle persone, il senso di impotenza, perché una cosa che spesso veniva, insomma, detta era che è come se non si avesse più la libertà, non si avesse più il potere di controllare la propria vita, quindi volevamo capire quanto il senso di impotenza, insomma, influenzasse questo atteggiamento, lo stato d'animo nei confronti del coronavirus, lo stato d'animo nei confronti della politica, e quindi capire anche qual è l'atteggiamento, cioè se queste persone davano credibilità o non credibilità allo Stato, e poi un'altra cosa che ci siamo occupati di capire è stata la prospettiva temporale, cioè attraverso un test di Zimbardo, di Filippo Zimbardo nella versione breve, perché volevamo capire come mai queste persone, come vivessero il tempo, perché se lei ricorda, durante il covid abbiamo tutti vissuto nei confronti del tempo una percezione un po', diciamo, variegata, c'era chi sentiva che non passasse mai, e chi invece sentiva che passava troppo in fretta, perché magari viveva una condizione che tutto sommato non gli dispiaceva affatto, rimanere con la famiglia, lavorare da casa, fare cose che non era mai riuscito a fare, magari prima di quel momento, quindi la gestione del tempo era una cosa che volevamo anche indagare. Professoressa, l'analisi ha per caso tenuto conto anche di quelli che sono stati, spesso un po' anche le teorie, in qualche modo, chiamiamole cospirazionistiche, non lo so, magari riguardo all'utilizzo dell'app immuni, al tracciamento, a questi fattori? Sì, in realtà, diciamo che la questione delle tesi cospirazioniste è abbastanza diffusa su varie matematiche, noi l'abbiamo indagata rispetto alla questione coronavirus, e in questo tutto quello che comportava l'idea del cospirazionismo, quindi sicuramente le app, il tracciamento, l'idea di essere eventualmente sotto una lente, addirittura, se lo ricordate, durante il periodo più acuto, le persone rifiutavano il vaccino in maniera anche abbastanza pesante, rifiutavano il Green Pass, il concetto del Green Pass, insomma, ha portato delle manifestazioni veramente violentissime, a volte anche aggredendo giornalisti, vi ricorderete le liste, no, delle persone che dovevano essere minacciate, perché in tv o comunque attraverso i canali di comunicazione cercavano invece di convincere le persone a vaccinarsi, eccetera, l'idea che eventualmente col vaccino potessero iniettarci un microchip, comunque insomma, di tesi di questo tipo, ne abbiamo sentite tante, se ne sono sviluppate tantissime, e veramente, peraltro, i seguaci di queste convinzioni non sono pochi, insomma, sono milioni in tutto il mondo, quindi un numero, insomma, che deve, come dire, attivarci e spingerci un po' a capire quello che c'è dietro il bisogno di costruire una teoria di questo tipo, che chiaramente ha un carattere difensivo, cioè quello che poi noi, insomma, in qualche modo abbiamo visto è che le persone più convinte della cospirazione sono le persone che hanno anche sentimenti, come dire, e la difficoltà di controllare le emozioni, sono persone che in realtà hanno dei livelli abbastanza elevati di emotività che non riescono a contenere, per cui a un certo punto la negazione del fenomeno diventa un meccanismo per difendersi e la costruzione, diciamo, di una tesi che spieghi alternativamente questa situazione, sebbene non sempre del tutto scientifica e non sempre del tutto ragionevole, diventa quasi rassicurante. Assolutamente. Francesca, io volevo cogliere l'occasione appunto della sua presenza qui oggi per tornare un po' indietro solo di una giornata. Ieri era la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, un tema sicuramente importante anche proprio probabilmente sotto l'aspetto anche psicologico. Qual è la percezione che lei ha oggi rispetto a questo fenomeno? Quanto è ancora importante parlarne e qual è il consiglio che probabilmente si sente di dare a qualche donna in ascolto e che probabilmente ha bisogno di essere ascoltata? Ecco. Sì, grazie per questa domanda perché insomma è importante che non sia solo il 25 novembre insomma la giornata in cui tutti ci occupiamo di questo fenomeno ma che sia tutti i giorni la giornata giusta per occuparsi di questo fenomeno quindi veramente grazie. Ieri all'Università di Foggia abbiamo ottenuto un bellissimo convegno su questa tematica confrontandoci insomma pedagogisti psicologi su questa diciamo difficile realtà. quello che purtroppo viene fuori è che non solo è un fenomeno in crescita ma è un fenomeno che sta anche variando un po' la sua forma quindi non c'è soltanto una violenza fisica che anche questa è elevatissima i femminicidi sono praticamente all'ordine del giorno sono veramente altissimi i numeri quindi c'è un grosso discontrollo emotivo c'è una grande difficoltà di contenere le emozioni gli impulsi perché il più delle volte questi mariti o coniugi o ex coniugi violenti sono proprio incapaci di frenare quasi questa valanga che si mette in atto e che può concludersi solo con l'uccisione a volte col suicidio e questo evidentemente è un fenomeno che va in qualche modo bisogna prevenirlo e bisogna anche intervenire in maniera un pochino più decisa perché in alcuni casi le vittime hanno più volte denunciato magari la violenza o la molestia e ahimè fino a quando poi non accade la tragedia purtroppo non riusciamo evidentemente non si riesce a fare di più dal punto di vista però dicevo sono diverse le forme non è più solo fisica ma per esempio c'è tantissima violenza in rete tantissima violenza sui social ci sono gli haters che hanno in genere caratteri di attacco sessista nei confronti delle donne violentissimi ci sono il revenge porn quindi diciamo il rubare foto intime o video intime e diffonderli sulla rete praticamente agendo una violenza che è tra l'altro impossibile da ritirare perché quelle immagini rimangono sulla rete praticamente per sempre ci sono state donne che si sono suicidate per questo quindi forme di violenza a volte sottili indirette però altrettanto potenti il mio consiglio innanzitutto è di non vergognarsi perché la prima cosa che le vittime percepiscono è la vergogna l'imbarazzo il senso di colpa non è non è colpa nostra non è non è diciamo qualcosa che abbiamo voluto noi e l'amore è una cosa diversa dalla violenza per cui la restrizione il ricatto la minaccia o addirittura insomma la percossa non è amore quindi questo noi lo dobbiamo capire a chiare lettere dobbiamo fermarci al primo gesto alla prima minaccia al primo ricatto assolutamente la prima a subito e se non riusciamo chiediamo aiuto ci sono i centri antiviolenza ci sono i servizi psicologici gratuiti da noi all'università oltre al servizio di cancelling psicologico che è disponibile da lunedì al venerdì tutti i giorni mattina e pomeriggio abbiamo anche un centro uno sportello specifico per accogliere eventualmente questo tipo di richieste lo sportello antiviolenza quindi assolutamente chiedete aiuto parlatene non vi vergognate non è colpa vostra e comunque qualunque cosa voi pensiate di aver fatto la risposta che avete ottenuto non è quella che meritate importante è parlarne grazie alla professoressa Giovanna Ceria per questa sua presunzione di testimonianza sulla ricerca Sapienza Unifg Università di Salerno e per quello che ci ha ricordato sul tema della violenza contro le donne ricordiamolo ancora presidente della società italiana di psicoterapia integrata e strategica grazie ancora per essere stata con noi professoressa grazie a voi buona giornata e noi ci fermiamo solo qualche minuto per un istante pubblicitario e poi torniamo ancora qui su Just Today per un istante pubblicitario